rieccoci ragazzi bentornati a tutti sul canale di nikon game nuova zona nuovi insidie qui su rayman buttiamoci verso la cava di cristalli ricordo veramente poco questa parte da qui in poi ricordo pochissimo ragazzi perché non ho mai finito il gioco per quanto lo abbia iniziato più e più volte durante la mia esistenza fino a ora non sono mai riuscito a finirlo e quindi gli ultimi livelli ultime zone le ultime aree di gioco non li ho mai visitate quindi in tutta sincerità non so neanche se l'ho mai fatta questa zona ma se l'ho fatta ragazzi mi tornerà in me ovviamente sto andando sopra ma non so sì devo andare sopra ma in realtà sì ma qui sotto che c'è morte certo ok vabbè le morti qui ragazzi saranno molto più numerose proprio perché ah ecco fortuna che sono tornato indietro fortuna che sono morto c'è anche qui qualcosa parava parappa andiamo con calma perché come sempre se riusciamo a recuperare le gabbie tutte in una volta non sarebbe affatto male da qua si da qua seconda gabbia che è questo silenzio è finita la musichetta mi piaceva c'è troppo silenzio ragazzi la la aia la la aiaia sotto c'è qua secondo me sotto c'è roba eh sì c'è una gabbia lì oh oh ma porca rischio mi stavo ammazzando con lo strozzo comunque abbiamo già tre gabbie sono sono fiducioso il bellissimo mi sa che si saliva andiamo su andiamo su Olè Sto rischiando ragazzi Sto rischiando ragazzi Via 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 Come... ah da qua Ma no Ma non è vero Alle volte veramente Non me lo spiego Però la gabia l'abbiamo presa quindi Non dobbiamo tornarci Questo? Guardate quante Belle monette E' un tesoro ragazzi Ok È un tesoro ragazzi Ma cazzo No Qui c'è chiaramente qualcosa E niente Aspettate Fermi 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 Altra gabbia ragazzi Attenzione Bella lì Ce ne manca solo una Qui torniamo giù Fermi Fermi Spero di non perdermi l'ultima gabbia, veramente. Che cazzo è successo? Ok, sicuramente l'ultima gabbia sta qui, per forza. Merdaccia! Ehm... Cazzo! No! Ma no! Cristale di merda! No, il pugno! Fanculo! No, ragazzi... Mi becca e basta, eh! Siamo completamente sin... Non siamo per niente sincronizzati con... E io sono andato qui, mo... Guarda sto coso! Eh, ma dirà che c'era? Ci poteva essere la gabbia, ragazzi, lo rifaccio! Merda! No! Eh! Mi sono giocato con la zona! Mi sono giocato con la zona! Niente, sicuro ci siamo giocati la gabbia ragazzi Sicuro, sicuro Sì, allora lì o c'era la gabbia o c'era il Cappellino o c'era il pacchetto C'era una di queste cose Per forza, a meno che non c'è un'altra zona Ma no, non c'è Quindi, niente ragazzi Ci dobbiamo tornare, ci dobbiamo tornare Peccato Che poi tra l'altro il cappellino E il pacchetto regalo, dove cavolo stavano? Non lo sapremo mai, oppure lo scopriremo La prossima volta che ci torneremo Qui, perché adesso dobbiamo Assolutamente recuperare Anche tutte le altre Gabbie che ci siamo lasciati Quante gabbie abbiamo racimurato? 92 Ce ne servono 120 mi sembra Per Il prossimo potenziamento 120 gabbie Sei esagerata comunque Betilla Betilla, scusa se te lo dico Ma sei un po' esagerata È un po' esagerata Con le gabbie Però ce ne mancano praticamente Una in ogni zona Una qua, una qua, una là Una a destra, una a sinistra, una sopra, una sotto Vabbè dai ragazzi Piano piano le recupereremo Piano piano No problem Le recupereremo Comunque Siamo sempre nella zona Della galleria Delle cave Eccetera Ma mi fermo qui Con questo episodio A voi come sempre Fatemi sparare la vostra Lasciate like Condividete Iscrivetevi al canale Sempre se vi fa piacere E noi ci vediamo Alla prossima Ciao a tutti Ciao a tutti